Ciao a tutti, la traditrice seriale. Allora, spesso c'è il luogo comune che i traditori seriali siano solo uomini, non è affatto vero. Ci sono diverse donne che sono traditrici seriali. Intanto chi è il traditore seriale? Beh, è una persona che tradisce, ma non una scapatella una volta perché così magari può succedere, oppure una persona che si fa un amante fissa e quindi porta avanti due relazioni fondamentalmente nel tempo. No, il traditore seriale è uno che tradisce continuamente cambiando spesso partner. Perché lo fa? Bene, il prototipo, diciamo, della traditrice seriale è una donna che è stata, diciamo, indotta, tra virgolette, dalla madre a sposarsi per questioni, per ragione di stato. Quindi lei ha ceduto alla ragione di stato del matrimonio, anche se probabilmente non era la sua indole, perché di indole più libertina, amava più divertimenti, eppure è stata indotta a sposarsi dalla madre e magari ad avere dei figli, a crearsi una famiglia. E quindi ha ceduto, diciamo così, alle pressioni dirette o indirette di questa madre, sviluppando però nello stesso tempo un, diciamo, una sorta di rammarico, di rancore, di rancore più che altro verso la figura materna e per estensione verso tutte le donne, in quanto si è sentita, tra virgolette, costretta a fare delle cose che non avrebbe voluto fare, quindi un matrimonio. Però di fatto nessuno le ha, come dire, le ha messo la pistola alla tempia, ma l'hanno costretta, diciamo, indirettamente, se vogliamo, quindi indotta magari. E quindi tradisce un po' per prestare fede alla sua indole, che è più un'indole libertina. Ci sono persone che hanno più un'indole libertina o che perlomeno non hanno voglia, non hanno interesse di avere relazioni stabili, ma anche e soprattutto per rivalsa verso le mogli dei mariti con la quale, perché poi la tradizione seriale frequenta solo poi persone anche loro sposate, perché comunque questo è ciò che le dà la garanzia di non trovarsi poi a dover mettere in discussione il suo matrimonio, perché paradossalmente tiene al suo matrimonio. E però tradisce il marito, insomma, in tutti i modi, in ogni occasione, insomma. E ovviamente per una donna è anche abbastanza semplice, se vuole, insomma, però sempre con uomini sposati, perché questo è un modo per, come dire, rifarsi sulle donne. Cioè, più che far cornuto il marito, lei prova piacere nel far cornute le mogli degli amanti con i quali va. Questa è un po' la dinamica che spinge, diciamo così, una donna ad essere traditrice seriale. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale, Felicità e benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!